Pronto per la scintilla di l'isola dei famosi? La tensione sale tra i naufraghi, con litigi accesi e tensioni incandescenti alimentate dalle punture di spillo che la modella How-and-A-Quest sembra divertirsi a distribuire ai suoi compagni di isola. Il ritorno ad effetto di How-and-A-Quest, avvenuto nell'ultima puntata del famoso reality show, ha causato un vero terremoto tra i compagni di naufragio. Invece di godersi la sua presenza in studio a Milano insieme alla divina Hilary Blasi e agli opinionisti adorati dal pubblico Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. I naufraghi devono affrontare la sua personalità sferzante in spiaggia. Solitaria nella tempesta, la modella si è isolata ulteriormente quando anche il suo amico Gian Maria Sainato ha raggiunto il punto di rottura. Vediamo insieme l'ultimo capitolo di questa saga. Dopo un'altra discussione acceso tra la Prestes e il gruppo di naufraghi, Sainato ha raggiunto un punto di non ritorno. Non riesco più a tollerare questa situazione, ha confessato riguardo alla Prestes. Ho cercato di sostenerla, ma alla fine ho dovuto ritirarmi. Devo essere più assertivo e resistere. Insomma, sembra che anche Gian Maria abbia raggiunto il limite della pazienza con la bella brasiliana, che recentemente sta perdendo consensi a causa dei suoi comportamenti che nemmeno il pubblico sembra più tollerare.